Ciao a tutti ed eccoci in Tomodachi Live, Notizie Flash Vediamo un po' Alla prossima! Vediamo subito... E che succede? Che succede? Vediamo vediamo Cicchiolino Adriano Certo vieni Proviamo a dargli mano È già cresciuto da ieri Gioco del cucù vediamo Bene bene con il gioco del cucù La sbarchiamo Perfetto Troppo bello il tenero Via! È l'ora della poppata no? Vai! Tutto merito nostro Oh una macchina per cucire Vado a vedere subito L'articolo importato Oh costumi da pinguino Wow nero Andiamo sul classico A presto Yeah! Poi vediamo i nuovi cappelli Cappello Bello! Questo è nuovissimo Invece di nuovi colori Abbiamo il Nuovi colori per il berretto Con pom pom Poi Riesci E di nuovo Vediamo cosa c'è nell'abbigliamento Costume da coccinella È nuovissimo Poi vabbè Gonna a campana Nuovi colori Vestaglia Nuovi colori Poi camice da medico Nuovi colori E completo Punk rocker Nuovi colori Arrivederci Poi questo Questo non ci interessa È quello che c'è dopo Ecco Bulliti È il bullito Bene Andiamo a controllare Se c'è qualche cuore Ma prima c'è una telefonata Cosa succede? Ciao Leonardo è tornato a casa C'hai anche un fratello nuovo Oh sì sì Ci piacciono i souvenir Wow Locum Bravo vai Non c'è di primo Vai Famerico Bene E non ti riposi Perfetto E ronfa anche Rapparecchio stanco Grazie Tornerò sicuramente E noi ti aspettiamo Leonardo Bene Controliamo se c'è un cuore E l'ho visto L'ho visto Eccolo qui Abdallah Attenzione Cosa pensa di fare Abdallah Forse di sposarsi Ed è così Ma secondo te No Vai Certo A Luna Park Sì dai Cambia vestito Leva il cappello Vediamo cosa c'è No Leva il cappello Vai Vediamo cosa c'è T-shirt con Medusa No questo è quello classico Comprato da Maratoneta Da wrestler Abito formale Ma andiamo con Giacca con jeans E via Yeah Ci penso io Vai tranquillo Secondo te Certo che ti darò la mano Nessun problema ragazzo Vai Vai Raioli Poi Ottimo Mi stanno chiamando Sono qui Ora pronta Ti riblocco Non penso a niente Sì dai Forza Vai Vai Proprio sulla proposta Non mi possono chiamare Sulla proposta Importantissima la proposta E vai E uno è andato Vai Sono pronta Sertellini Abdallah Vai Oh romanticissimo Vai Avanti il prossimo E l'acqua No Ne ho sbagliato Ok Ok Iniziamo a passarsi Allora Uccelli Niente Niente Ecco dai Adesso Vai Oh Cosa Chissà Vai Mi sono rimasti Solo due Di fuori Vai E vai Ce l'ho fatta Vai 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 Applaudis Applaudi 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 Farmaco Per lo stomaco Siamo davvero emozionati Per la giornata Vai 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 Oh Bravi ragazzi Bravi Accidenti Accidenti Grandi festeggiamenti Lancio il mazzolino E via Uno di Svizzera Andiamo Andiamo Non mi è mai capitata Di tale Vediamo se l'ho presa Dai Avanti Occhi chiusi Rientro E via Qui ce lo dovrebbero portare Il souvenir Ottimo Un campanaccio Per noi Certo Certo Oh la miseria Livello 19 Quasi a fine Stavo per fare due livelli In un colpo solo Tieni va A prenderti un cd Per ascoltare la musica Ho sentito Alessio Cattare A una voce Fantastica Ma senti Vai Mangiati questo Bollito alla francese Uh Ecco Anche il livello 20 Cambiamo vestito Degiamogli Che ne so Costume da pinguino Tieni Mi fa ridere Mi fa ridere Hai ottenuto Hai ottenuto un tesoro Una moneta D'argento Ci sta anche qualche altra cosa Una mila Prendi la mila Continuiamo se c'è qualche altro cuore Niente Torniamo indietro E andiamo a vedere Andiamo a vedere No la spiaggia Volevo vedere Oggi non vorrei fare I sondaggi Ma no Non volevo andare qui Stavo pensando Che oggi non vorrei fare i sondaggi In quanto È una cosa ristretta Non ci sono molte I vostri sondaggi Aspetterò dell'altro E prenderò sia i sondaggi Della puntata 120 E di questa puntata qui L'ho voluta fare Perché ho visto Che erano arrivate I nuovi oggetti E le lettere E no Era arrivato anche Leonardo E quindi ho voluto fare Questa puntata così Flash A breve distanza Tra Tra due puntate Mi stavo intrigando Perché stavo pensando Che volevo vedere Ivano Cosa pensava Eh sì Mi è passato di tempo Ci provo Ci provo Ci provo Dopotanto ci provo Vediamo Su Su Starnutire Starnutire No niente 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 Eh lo starnuto Il mio tallone D'Achille Ci abbiamo provato Ti animano Vai Prenditi questo Bollito Alla francese Sono a livello 20 E ancora Di mano E non ho ancora Trovato il suo Alimento super preferito O detestato C'è ancora Dello spazio Quindi prendi Questa Humus Eh nuovo livello Nuovo cappello Io direi Anche Vai Vabbè Spugna Vai Gritto Pompon Grazie E vai La moneta Allora vado A controllare Anche quest'altra Casa Che è di Pizzo e Roby Vediamo Un po' Super Cioè Roby No Questo vestito Non ti si può Vedere Vediamo Un po' Niente Non stai pensando A niente Il vuoto Praticamente Roby Va tranquilla Non lo sappiamo Nessuno Una titola spray Allora Ha bollito La francese Anche per Roberta Oh L'ho aggradito E anche Salita di livello Cambiamo Vestito Bello Un bell'abito Appua E oggi Roby Sì Va bene Ti voler Far cuscire Dopo te lo faccio Oh Al volo Ah No Mannaggia Sì No 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 Chiudi Regalami I fazzoletti Vai Allora Tieni Una padella Cucinaci No Volevo fare da cucire Non la padella E l'ho detto anche prima Mamma mia Va bene Allora Facciamo cucinare Qualcuno altro Vediamo che cosa cucina Sono curiosa Sono curiosa Ma non l'hai cucinati Erano sotto a seto Hai preso il barattolo Ci hai fregato Allora via Tieni Beccati anche una ciliegia Ho aggredito anche la ciliegia Ma niente Super preferiti Andiamo a vedere cosa Chiama Vediamo chi è che ci chiama Prendendo Lisa Infatti Oh si è arrabbiata Lisa Vabbè dai Facciamo pace Vai Vai a fare la pace Tieni Vediamo se hai bollito La francese Vi do a tutti oggi Il bollito la francese Piatto del giorno Mi è piaciuto Oh Gli è passata anche la rabbia Con il bollito Con calma Lisa Non avevi fretta Dai su Dai Ma bene Si sono scusati Yeah Ottimo Allora Visto che avete fatto pace Sei in vena di cucire Sì So So che sei in vena di cucire Macchina da cucire Mi raccomando Non padella Macchina per cucire Vai Oh vediamo Vediamo che opera d'arte Ci tiri fuori Ma non ne dubitiamo Un asciugamano Un fazzoletto Felpa leopardata Dal taglio snellente Oh la miseria Sono rimasta quasi senza parole Brava Bravissima Meglio dei cetriolini Di robetta Effettivamente Siamo Cosa c'ha da dirci Ah Sei la tua migliore amica Vediamo quindi Le richieste Di tutte Le coppie sposate Non Sono state esaudite Vediamo L'ultimo L'ultimo quindi Vedete La casa di Abdallah E vi lo vediamo cosa fanno Stanno leggendo Ecco Facciamo Una breve panoramica Casa Jim e Flavia Che fanno C'è Jim che sta parlando con Daniele Mi sembra Poi Non c'è nessuno in casa Andiamo a vedere La casa di Alberto e Valentaggi Alberto legge Tutti a leggere Casa di Vale e Sere C'è Sere che se la sta chiacchierando Con Mickey No Sì E poi c'è Casa di Fernando e Lisa Lisa chiacchiera con Alice Direi di fare la Panoramica veloce Di chi è in casa Cosa stanno combinando Che è da tanto che non faccio Ah Mickey Fischietta Filippo Fa gli addominali Beatrice Sta con Vale a chiacchierare Gaia Saltella Axman Gioca con lui Ace E' infermo immobile Emanuela Canticchia Jared Oh fa il reoplanino Filzamek è al telefono Mia moto si allena al saccone Ale al telefono Sarà con Filzamek Poi c'è Will Gioca Will Ricky Cerca la nostra attenzione Nicolas Cage Guarda il divano Chissà cosa ci sarà Sul divano Di interessante Oh Gaia Amoreggia con Shaq Kate Fa ginnastica Con Valentaggi Momo Anche Momo Canticchia mentre Scioglie il collo E balla Eric Monkey Oh gioca con i 3DS Insieme a Eleonora E Non riconosco l'altro Daniele Daniele cosa fai Ti sta addormentando al sedere Stalchild Ed è pensieroso Ha letterato sicuramente con qualcuno Hank Saltella Allora vediamo un po' Namicraft Balletta Giulia al telefono Sico Gioca Will Con Federico E Carlo E Daria Poi c'è Tommy Che suona la chitarra Con Sarah Rock Proveranno qualche cosa Giada Gioca Al 3DS Chiara è qui con Cristina E se la chiacchierano E Olga Balletta Daisy Osserva il muro Sabrina E al telefono Sean E con Memi Ed Edgar Che saltellano Pugavano Shaq Ma come Shaq è rientrato in casa Adesso se la gioca Con il 3DS Sarah Rock A freddo Mi sa che Sarah Rock Si sta ammalando Alex È in casa Che anche lei Guarda il divano Poi Silvia Girella per casa Chan ascolta lo stereo Paolo saltella Daisy Ammira la sua stanza Ariel Oh ecco Ariel Credo che Un attimino Questo sentore Che stia edificando con Chris Ma questo sentore Poi c'è Toro Che è col suo amicino Poi Edgar è al telefono Memi Ora legge Super Mario Canticchia Federico è con Gianna Poi c'è Alessio Moni È con Checomastro Che amoreggiano Poi c'è Valentangy Che è a giocare adesso Con John e Susi A lui Mark è con Momo Sarita Guarda la tv Mi sa che giocano a Just Dance Con Shaq Ma Shaq è ovunque Cioè Fa un tempo a fine una cosa Che poi va nella casa un'altra Roby gioca con il 3DS Vichingo fa lo stretching Ilaria Balletta Giacomo Tira i calci Al saccone Ma perché mi sa Che è arrabbiato Perché vedo la nuvoletta Poi c'è Pizzo Che gioca al Wii U Vale Che è con Matteo, Evano e Emilia Che stanno facendo gli esercizi Ginnastica Sere Fa la replayina E Stratoxina Balla Stretching Braccio Braccio Scalda i muscoli E via Bene Panoramica di che cosa Combinano i nostri Mi I miei Quando Non li Chiamo in causa È stata fatta Io adesso vi saluto E vi rimando al prossimo video Ricordatevi che farò i sondaggi La prossima volta Nel 122 Mi sembra La 122esima puntata Un saluto a tutti Da Stratoxina Ciao ciao